Ciao a tutti, sono Mary Carbone, oggi sono qui nella mia casa per raccontarmi e lo farò rispondendo a delle domande che mi sono arrivate dalla redazione di Nefi. E come dice il buon Marzullo, fatti la domanda e datti la risposta. E quindi partiamo subito con la prima domanda. Eccoci qui. Il tuo nuovo singolo ci ha fatto ballare durante l'estate. Come è nata la decisione di entrare nel mondo della musica? Semplicissimo, è nato tutto in pieno divertimento insieme agli autori che sono Fabio Riggi Mosero della Music Universe che saluto e abbiamo deciso così dopo un periodo pesante e lungo di pandemia di ripartire, ripartire in pieno divertimento con questo nuovo singolo, un macio vero, tutto da ballare e tutto da cantare. Prossima domanda. L'hai in previsione un nuovo singolo? Sì, ne stiamo parlando e stiamo valutando un po' di cose. Appena tutto sarà pronto ve lo farò sapere. L'esperienza della pupa al secchione, quanto è stata negativa e quanto positiva? L'esperienza della pupa al secchione è stata positiva perché mi ha dato comunque tanta tanta visibilità, mi ha resa comunque popolare a livello nazionale, mi ha dato la possibilità di lavorare in tantissime trasmissioni Mediaset e Rai, quindi sarò sempre grata a Indemol e Mediaset per questo. È negativa perché? Perché comunque, ahimè, il reality da pupa al secchione tende un po' a etichettare, tra virgolette, in quanto la bella è un po' la stupida e quindi per me è stato un po' faticoso poi dimostrare che Mary Carbone non è proprio così, in quanto poi sono una donna molto creativa, mi piace tanto creare, fare, infatti ho realizzato una linea di lingerie, un e-commerce da uomo, un'agenzia di moda e quindi, insomma, proprio così stupida non sono e questo è l'unico, diciamo, aspetto negativo, ecco. Prossima domanda, torneresti in un reality? Cosa vado a fare in un reality? Io sono troppo famosa. Credi che il mondo dello spettacolo sia cambiato? Eh, credo che sia cambiato sì, ormai non vediamo più, accendiamo la televisione alla sera, non ci sono più quelle trasmissioni di intrattenimento, dove vedevamo veramente di tutto, un corpo di ballo, cantare, presentazione, cioè, di tutto, di tutto, attori, gente veramente, dei veri e propri professionisti, che facevano spettacolo, parlo di spettacolo, quindi adesso, purtroppo, e me è cambiata, non ci sono, ci sono pochissime trasmissioni, vedo e quasi tutte parlano magari di attualità, cronaca, gli unici sono appunto i reality, ma sinceramente vorrei, mi piacerebbe vedere poi la televisione di una volta, quella che mi ricordo io di quando ero bambina, che era veramente molto, molto bella. Prossima domanda, le tiktoker sono le VIP del futuro? Ragazzi, boh, le vediamo in televisione, suppongo siano delle VIP, cosa vi devo dire? Io, sinceramente, non sono molto per quel mondo, in quanto lo reputo molto, molto, molto finto, e vorrei vedere un po' più di verità, un po' più di professionalità, quindi per me la parola VIP è una parola importante, e quindi sinceramente non credo che siano le VIP del futuro, forse le VIP del presente, ma spero proprio di no, ecco. Prossima domanda, quanto ti è cambiato la vita essere mamma? Beh, essere mamma ti cambia tanto la vita, in quanto i figli sono la prima cosa, e devi stare dietro a loro in tutto e per tutto, e seguirli, e io mia figlia comunque l'ho sempre seguita, da quando l'ho sempre voluta seguire io in prima persona, non l'ho mai voluta lasciare a nessuno, e di questo ne vado fiera, sono contentissima, continuo a farlo ancora adesso, anche se lei comunque sta crescendo, è giusto che poi faccia le sue, no, le cose con le sue amichette, vado a scuola, e io che comunque riprenda anche, che io ritorni a lavorare poi, e a fare quello che ho sempre fatto e che mi piace fare. Prossima domanda, se un giorno il tuo figlio ti dovesse dire di voler partecipare ad un reality show, come prenderesti la sua decisione? Ma rispondo dicendo che aspettiamo quel momento, perché adesso è veramente troppo piccola per pensare a questo, quindi vi risponderò tra un bel po' di anni. La vita che vorresti per tua figlia? Ma io gli auguro il meglio, le auguro ovviamente di trovare la sua strada, quello che più le piace fare, di inseguire i suoi sogni, ma di studiare, di impegnarsi sempre, di mettere il cuore in tutto quello che fa, perché è importantissimo. E niente, semplicemente questo, insomma, che diventi una donna poi indipendente, perché al giorno d'oggi è importantissimo. Ultima domanda, hai progetti X a spettacolo? Ma, ripeto, io ho fondato questa agenzia di moda da diversi anni, la Memo del Milano, dove comunque faccio tutto io, seleziono le modelle, organizzo corsi di portamento per chi volesse farlo, organizzo eventi di moda, e quindi andrò avanti con questo, perché poi quello che mi piace tanto fare è che so fare. Niente, le domande sono terminate, io spero di essere stata veloce per non annoiarvi, e niente, vi mando un grande abbraccio e un super bacio forte da Mary Carmone. Mua!